Parlare di rivalsa suonerà forse eccessivo, ma i volti e le dichiarazioni sfoderate da Regione Lombardia rispondono all'antica regola secondo cui, quel che semini raccogli. Ad oggi la campagna vaccinale lombarda pari a un quinto del totale nostrano, è senz'altro quella che funziona meglio in Italia, con una media di dosi somministrate pari al 96,5% di quanto fornito, 6 punti e mezzo in più rispetto alla media nazionale. Quando la Lombardia andava male come vaccinazione, prime pagine, servizi giornalistici, talk show, caos Lombardia, tutti che inzuppavano in questa notizia. Adesso che la Lombardia è di gran lunga la prima della classe c'è un silenzio un po' troppo rumoroso. Ma la conferenza odierna non si è limitata a precisare l'andamento dei vaccini con oltre 8 milioni di dosi già somministrate in Lombardia. Al centro dell'attenzione c'era infatti la presentazione dell'innovativa piattaforma di monitoraggio che permette di aggiornare costantemente e di valutare in modo scientifico l'efficacia, gli effetti e le dinamiche della campagna. Abbiamo realizzato una piattaforma con l'anagrafe di tutti i cittadini lombardi e con le caratteristiche rispetto al tema vaccinazioni, quindi tamponi positivi, vaccinazioni, quindi tutte le caratteristiche individuali. Questa piattaforma è in grado di fare un monitoraggio sull'andamento, sul trend della campagna vaccinale e una valutazione della sicurezza e dell'impatto. Valuta quindi tutti i diversi vaccini e l'impatto dei diversi vaccini rispetto alle persone. Lo studio, precisano gli esperti, è già stato presentato all'Istituto Superiore della Sanità e all'Istat perché la scienza è fatta di prove, evidenze, risultati, non di chiacchiere né di suggestioni. Io continuo a dire che il nostro mestiere consiste nel valutare che cosa sta succedendo e magari che cosa è successo nel recente passato per far meglio nel prossimo futuro e quindi anche imparare dei nostri errori.